Ben ritrovati dalla C, iniziamo a parlare di calcio. Nel posticipo di questa sera, gli Amaranto proveranno a consolidare il buon momento. Alberti gioca a carte coperte circa l'undici titolare e punta tutto sull'esperienza. Dentro e fuori dal campo, Di Cirillo, Aronica e Belardi. Questa sera conta solo vincere, così Alberti prova a dare la scossa alla regina che al granillo si troverà di fronte alla paganese dell'ex Sottil. Gli Amaranto vogliono dare continuità alla ministriscia di risultati positivi e puntano tutto sul fattore compattezza. Dobbiamo restare uniti, ripete il tecnico, se vogliamo uscire insieme da questa situazione. Un invito accolto anche dalla tifoseria che nel fine settimana si è resa protagonista della bella iniziativa Cuore Amaranto che ha di fatto ricompattato i club storici dopo gli attriti e le divisioni degli ultimi mesi. Un appuntamento a cui hanno preso parte anche gli ultimi arrivati Aronica, Belardi e Cirillo. Proprio le condizioni dei tre grandi ex saranno valutate fino all'ultimo da Alberti che comunque dovrà nuovamente attingere a piene mani dal settore giovanile. In difesa ci saranno i rientri di Ungaro e Camilleri mentre in mezzo al campo potrebbero agire Maimone, Armellino e Condemi. In avanti sicuro di un posto dovrebbero essere Viola e Masini. A questi Alberti potrebbe affiancare uno tra Lusada e il giovane Giuici puntando così su uno schieramento più offensivo. Ma al di là di chi scenderà in campo e dell'assetto tattico tutto l'ambiente amaranto si attende una nuova prova tutta cuore e grinta per quella che si annuncia come la prima di un lungo elenco di finali che attendono la regina da qui alla fine del campionato. Ed ora il basket. I nero-arancio sono tornati ad allenarsi in vista delle ducare di campionato di questa settimana. Sul parcheggia mercoledì sera per l'anticipo della diciottesima settimana. Benedetto dice, sono ottimista. Sentite. Dopo la bella vittoria alla pala Battisti di Verbania, la Viola è tornata ad allenarsi in vista della delicata settimana che l'attende. Due gare in pochi giorni. La prima al pala Calafiore contro il Re Canati mercoledì sera. La seconda domenica pomeriggio in Lombardia a casa del Treviglio. Quest'ultima con pagina diretta avversaria dei Regini. Ora a quota 22 punti in classifica. In casa nero-arancio si cerca di recuperare alla più presto Eric Rush. importantissima alla grande che sul parcheggio fino a questo momento ha fatto sempre la differenza. Anche se la squadra proprio contro Megna ha dimostrato di saper affrontare ogni defezione del roster. Come sottolineato dallo stesso allenatore Giovanni Benedetto. Le nostre, ha affermato, sono tutte vittorie di squadra. Ma quella di Sabatolo è stata in modo particolare. poiché dopo la ricerca di equilibri nuovi siamo tornati a vincere su un campo molto difficile. Ora, ha concluso il coach, guardiamo al futuro con rinnovata fiducia. Con la consapevolezza dei nostri limiti e con la determinazione di sempre. È tutto, vi lascio alle previsioni del tempo. Questa sera vi ricordo l'appuntamento con il nostro telegiornale alle 20. A seguire il TG Sportivo. Grazie per averci seguito. Buon pomeriggio. Grazie a tutti.